Andrea Cossu, responsabile del CEDAB, società informatica di CNA Bologna, protagonista del progetto Ripartenza Solidale perché ha dato la fornitura poi concreta a persone che lavorano in OPIM. Già la seconda volta che avviene un'operazione di questo genere, anche l'informatica può essere solidale? Assolutamente sì, abbiamo avuto il piacere di partecipare a queste iniziative e ci hanno effettivamente dato l'opportunità di fornire delle attrezzature per quanto riguarda l'utilizzo da parte di persone con bisogno di maggior attenzione, adesso li definiamo fragili, comunque persone che hanno bisogno di un certo tipo di attenzione per poter essere inserite o reinserite nel mondo del lavoro. CEDAB ci occupa di fornitura di attrezzature informatiche quindi computer, server e apparati di rete e soluzioni software di gestione aziendale, sia soluzioni di carattere general purpose come vengono definite, sia soluzioni per se specifici settori verticali. Qual è il vostro messaggio che date alle imprese a cui vi rivolgete? Noi ci rivolgiamo alle imprese del territorio di Bologna, di provincia e lo facciamo cercando di fornire delle soluzioni che agevolino e semplifichino le attività delle imprese stesse, quindi per fare in modo che i processi informatici siano i meno pesanti possibili. Grazie a tutti.